Ciao le Terri Mixer, sono Giorgio Facchinetti, Verbaltender, e oggi mi trovo qua all'Ulapalusa di Milano per presentarvi i miei drink. Il drink che vi propongo oggi è una recitazione del Bourvardier, un drink a me molto caro in quanto mi ha fatto arrivare terzo alla finale di Mixologist, la sfida dei cocktail. Gli ingredienti che servono sono bitter, vermouth, whisky, zucchero, angostura e menta. Andrò a mettere un bascun di zucchero, siamo generosi, anche un bascun e mezzo, angostura, tre dash, soda per amalgamare tutto, menta, tre quarti di pitte, vermouth, whisky, tre quarti di pitte. E andiamo ad amalgamare il tutto. Andiamo a mettere il ghiaccio prima all'interno del mio bicchiere per farlo raffreddare e poi successivamente all'interno del mio mixing glass. E andiamo a fare uno strain all'interno del nostro bicchiere. Personalmente io questo drink lo servo senza cannucce. Salute! Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Grazie a tutti.